ciao lino ciao a tutti i tifosi rosso blu niente come vedete sono sto parlandovi da casa mia sullo sfondo vedete che non è la stessa cosa del mare per cui niente vi volevo salutare mandare un grosso abbraccio e raccontare qualche aneddoto che mi viene in mente dalla mia esperienza della mia esperienza rosso blu ma l'aneddoto più bello che ho nel cuore l'arrivo dalla trasferta di liverpool quando siamo arrivati all'aeroporto cristoforo colombo e niente vedere tutto l'affetto di voi rosso blu di voi tifosi genoani che alle 5 di mattina 5 mila persone che all'aeroporto cristoforo colombo hanno aspettato il nostro rientro e che dopo un'ora andavate a lavorare giocare per voi da parte mia è stato un enorme piacere un'enorme soddisfazione per me il genoa è stata la mia nazionale e tutti i ricordi che ho nel cuore sono rivolti verso quella splendida realtà che è la squadra rosso blu un abbraccio a tutti voi e speriamo che questa è che questa per questo periodo passi veramente in fretta in modo da poterci riabbracciare e rivedere ciao a tutti